Ovviamente come puoi vedere l'installamento e l'aggiornamento in corso, l'ultimo aggiornamento del 29 di febbraio del 23H2 rispetto a quello automatico che mi lo sta scaricando ed è ancora in ritardo. Ovviamente come puoi vedere sta inizializzando così in corso l'aggiornamento e lo sta installando. Quindi è il KB503 4848 che ho trovato direttamente sul catalogo di Windows Update. Quindi in questo caso se hai problemi a scaricare l'aggiornamento su Windows Update, quindi su disponibilità degli aggiornamenti qua sopra, puoi sempre scaricarlo qui. Ovviamente in passato ho realizzato altri tutorial di cui mi diceva che questo aggiornamento non può essere installato perché è stato già installato sul PC. Quindi tu vai a scrivere il KB503 4848 dell'aggiornamento di Windows 11 versione 23H2. Per sistemi basati su Per64 fai download, ti porterà su questa schedina, tu mi raccomando l'aggiornamento deve essere con il file .msu. Clicchi sopra, lo scarichi e lo installi. Basta, è finito. Ci vuole un bel po' per installarlo. Quindi ed eccolo qua che lo sta installando. Comunque per altri problemi riguardo a questo aggiornamento del 29 di febbraio. Quindi se questo video ti è stato utilissimo il link lo troverai in descrizione per scaricare e installare il tuo aggiornamento per Windows 11. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! 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 Grazie a tutti